Paolo seduto con i pop corn e il piccolo Gabriele guardano Clizia che si prepara i vestiti per la festa della mamma. Grazie per la visione! A casa di Clizia e Paolo già è tutto pronto per la festa della mamma. Il piccolo Gabriele già gli ha fatto un pensierino e si baciano tutti uniti una bella famiglia.